Ciao a tutti gli appassionati di gossip e newsita. Siete nel posto giusto per le ultime chicche e aggiornamenti. Oggi ci addentriamo in una storia che ha scosso il panorama mediatico, il caso di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano. La sua prima udienza a Milano ha visto forti emozioni, con Impagnatiello che ha espresso il suo pentimento, ma le reazioni della famiglia di Giulia sono state intense. Chiara Tramontano, la sorella della vittima, ha risposto con fermezza su Instagram, dichiarando che le scuse sono inaccettabili dopo un atto così terribile. In aula, la famiglia di Giulia ha lasciato l'udienza durante le dichiarazioni di pentimento di Impagnatiello. Il suo avvocato, Giulia Gerardini, sostiene che il pentimento di Impagnatiello è genuino, ma la famiglia della vittima sembra non essere disposta a perdonare. L'udienza è stata trasferita in una maxiaula, con tutti i membri della famiglia presenti. Prima di continuare, ragazzi, se ancora non siete iscritti a Gossip e Newsita, cosa state aspettando? Cliccate sul pulsante di iscrizione, lasciate un bel mi piace se apprezzate il nostro lavoro e, soprattutto, condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. La vostra partecipazione è il cuore del nostro canale. E ora, senza ulteriori indugi, torniamo al nostro Gossip e Newsita. Ma prima di farlo, vi chiedo di lasciare il vostro feedback alla fine del video. Grazie per essere con noi e ricordate di attivare le notifiche per non perdere gli scoop futuri. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento di Gossip e Newsita.